Partiamo da questa assunzione che Matera era la vergogna e poi diventata invece una grande occasione. Quello era anche però lo sguardo di quel tempo. Adesso noi oggi guardiamo Matera anche in maniera forse un po' poetica, i sassi, questi luoghi, il disegno di questi spazi, la bellezza di quell'architettura. Però a quel tempo quello sguardo guardava quella cosa come qualcosa che era antimoderno, era qualcosa che non apparteneva più a quel tempo. Come per esempio molta dell'architettura rurale che c'è in Puglia, i Trulli, erano tutte visioni anche di molta sofferenza, molta fame, molta fatica. Quindi la vergogna era proprio quell'occhio, quello sguardo di un tempo che vedeva in quella cultura una cosa che bisognava cambiare. Credo che l'eredità che questo evento può lasciare su Matera è quello di dare uno sguardo a Matera non solo come sassi ma tutto quello che è stato nella storia del trasferimento dei sassi in questi quartieri moderni. Quindi credo che sia importante che forse nell'onda di questa esperienza si possa parlare di Olivetti per quello che è stata una visione urbanistica e sociale, per l'architettura per quello che è stata la modernità, è reinterpretata in maniera più soft. Cioè lo spazio della città di Matera, al di là dei luoghi privati della casa, è veramente un luogo sociale perché tu per andare in casa tua devi passare davanti a quella di un altro, poi ti puoi fermare, chiacchierare, c'è tutta questa idea della prossimità, dell'empatia, sono tutti i temi che a noi sono sfuggiti completamente di mano. Forse quello sguardo noi dovremmo recuperarne più che un aspetto estetico di forma che è riproducibile per mille ragioni, è proprio quello di prendere quali sono gli elementi fondativi di quella cultura, quell'idea di stare insieme, che è un tema oggi di cui si fa un grande dibattito. Come facciamo a stare insieme in città molto grandi? Come facciamo ad avere i nostri vicini amici? Perché gli anziani stanno guardando al tema dell'empatia, dell'amicizia come una delle forme di cura? Perché ci manca il rapporto con i nostri vicini? Cioè tutto questo noi non siamo più riusciti a riprodurlo. Allora Matera in questo senso ci insegna quello, ci insegna che si poteva progettare per ragioni di scarsità di risorse, per ragioni di prossimità e anche di economia. Allora Matera può essere un punto di riferimento per studiare i temi fondativi, non tanto la forma, i temi fondativi. Allora ecco, lo sguardo secondo me è questo, bisognerebbe avere una capacità critica a guardare quelle cose e da quelle estrapolare l'invisibile. Il visibile è bellissimo, non sto neanche a discutere, ma è quella parte invisibile, quella parte immateriale di relazioni. Ecco, quello secondo me è lo sguardo con cui oggi dovremo guardare quelle cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.